Musica Dove l'ammessa? All'incrocio dei pali! Un gol pazzesco! Let's go! Let's get it! 16-15! Amici di Sport Italia, appassionati di Pallamano, ben ritrovati! Nuovo appuntamento con Handball Mania, quest'oggi in esterna, nello splendido Palazzo Moroni. Siamo nel chiosco, questa è la sede del Palazzo di Città, del Comune di Padova. Padova che sarà un importante contenitore, un'importante location per la Pallamano italiana nel mese di ottobre. Ne parleremo tra poco diffusamente perché è ospite di questo numero speciale di Handball Mania, il Vice Presidente della Federazione Italiana del Gioco Handball Gianni Censi, che saluto e ringrazio per aver accolto il nostro video. Ciao Gianni! Buonasera anche a voi, grazie! Buonasera Gianni e buonasera, ben ritrovato Matteo Aldamonte. E allora parleremo chiaramente di tutto ciò che avverrà a Padova nel mese di ottobre e avverrà tanto, no Gianni? Sì, è una macchina che è partita qualche mese fa, c'è l'incontro che io ho subito sposato come l'incontro più importante degli ultimi vent'anni internazionale perché affrontiamo un'avversaria di top livello e ho stimolato tutti i miei vicini collaboratori di poter pensare di ospitare questa partita e siamo stati anche accolti bene dall'amministrazione comunale, abbiamo creato tutta una serie di eventi che occuperà un'intera settimana dove avremo la partecipazione degli enti locali, delle varie attività produttive locali perché li abbiamo coinvolti attraverso Fondazione Comunica e attraverso Confesercenti e altre associazioni di categoria. Abbiamo coinvolto anche le nostre società perché, ripeto ancora, grazie a Fondazione Comunica avremo un momento di formazione per le nostre società per quanto riguarda la comunicazione e poi arriveremo l'ultimo giorno. Poi ci sarà Italia-Ungheria, ci sarà Italia-Ungheria alla Chione Arena di Padova poi ne parleremo, come dicevamo, nella seconda parte di questo appuntamento di Enbolmania intanto apertura dedicata al massimo campiato maschile che ha vissuto, Matteo, nello scorso weekend un turno importante e anche indicativo, se vogliamo per quelli che sono i valori tecnici in campo. Senza dubbio, io direi che l'equilibrio di cui abbiamo tanto parlato si è confermato nei primi 180 minuti e c'è una certezza fino ad ora in questi primi tre turni di campionato che è il Bolzano, che non ha mai perso, Bolzano sta dando davvero delle prove di forza importanti l'ultima a Fasano, è vero Fasano era senza fovio ma vincere 31-18 in casa dei campioni d'Italia è sicuramente un segnale di sicurezza della squadra di Boris Vorsek e poi dietro a Bagara c'è il Conversano che ha perso un punto, è vero, in casa di Bressanone però al tempo stesso ha vinto bene in casa, 28-22 invece contro il Cassano Magnaco direi di vedere il servizio per fare il punto su quelli che sono i risultati di questa ultima terza giornata di A1 maschile. Tre partite a 180 minuti non sono abbastanza per dire tutto ma sono sufficienti per suggerire qualcosa? Per suggerire, entrando più nel dettaglio, che la Serie A1 maschile di quest'anno è un rebus difficilissimo da risolvere, impossibile da ipotizzare, emozionante da seguire. La certezza dei primi tre turni stagionali ha un nome, Bolzano. Solo vittore per gli altoatesini del tecnico Vorsek, gli unici apparsi già in forma campionato sin dall'avvio. La prova di forza in casa del Fasano è un avvertimento ai pugliesi e a tutte le altre. 31-18 alla palestra Zizzi, casa di un Fasano inevitabilmente ferito, senza fovio in campo, perché le parate dell'estremo difensore azzurro sono un valore aggiunto irrinunciabile per chiunque, ma anche sotto l'aspetto mentale. La più vicina nei numeri e nel gioco ai Bolzanini è il Conversano che ferma l'accelerazione del Cassano Magnago, che arrivava alla Pala San Giacomo dopo due successi consecutivi. Passano i pugliesi 28-22, che porta la firma di Pasquale Maione, autore di otto reti e che si conferma giocatore ancora in grado di spostare gli equilibri della massima serie. La terza giornata porta con sé poi due prime volte in stagione, perché né Pressano e né Egosiena avevano mai vinto. Lo fanno alla terza opportunità offerta dal calendario, entrambe in casa. I Trentini con un 27-20 che costringe contemporaneamente la Banca Popolare di fondi alla terza battuta d'arresto consecutiva. I senesi invece superando bene in casa Cingoli, 31-26 con lo svedese Nelson, miglior marcatore della sfida, con 9 gol. Bressanone intanto si fa corsare sul campo del Gaeta. Alto a Tesini avanti 11-8 al termine dei primi 30 minuti, ma squadra in perfetta parità sul 21-21 al 57esimo. Segnerà Crespo per il 22-21 senza concedere reazioni poi ai laziali. Nonostante il doppio time-out, Bressanone vince 23-21 in trasferta e sale a tre punti in gradatoria. Occhio a Trieste, sempre di più. Secondo successo consecutivo, il primo dell'anno in trasferta per la squadra giuliana del tecnico Puceri che costringe il Colonia al primo stop del suo campionato. Finale in a casa dei Franciacortini, 31-24 dopo il 14-9 su cui si era andati all'intervallo. Palasabena, secondo atto e stavolta vince Bologna battendo 30-25 l'Alperia Verano. Primi due punti per la squadra allenata da Giuseppe Tedesco che risolve a proprio favore un confronto incerto dopo il 15-15 al termine della prima frazione di partita. Nel ogni studio, ecco Gianni, Bolzano per il momento che recita la parte del Leone ha voglia di riscatto chiaramente dopo una stagione, quella appena trascorsa avara di trionfi, ma la grande novità è l'equilibrio dettato dal girone unico che finalmente si è realizzato. Sì, la cosa inaspettata è proprio questo, che aver riunito tutte le forze migliori del panorama maschile ha comportato effettivamente, al di là, come hai indicato tu di Bolzano, finora, perché poi si sa il campionato è ancora lunghissimo, però abbiamo visto che c'è un lotto di squadre in grado di competere alla pari, magari più consolidando in casa certi risultati, ma poi anche tutte le partite hanno divari molto molto ristretti, per cui sì, è un bel inizio. Anche perché possiamo finalmente vedere in live, streaming, in chiaro, tutte le partite del massimo campionato, questo è un elemento di realtà che spesso dimentichiamo. Ma sì, c'era quella tradizione telefonica di sapere come è andata la partita, ma parlo ovviamente con i miei retroscena da tecnico, adesso vederlo in diretta, in qualsiasi momento, con riprese, anche commentate, perché ce ne sono alcune di buon livello, fa sicuramente specie. E allora, dicevamo del Fasano, diceva in presenza Matteo Aldamonte, reduce dalla pesante batosta casalinga rimediata d'opera del Bolzano, Fasano che andrà a caccia del riscatto, prossimo turno campo difficile, quello del Cassano Magnaco, sconfitto a Conversano, proprio al tema di Conversano-Cassano Magnaco abbiamo raccolto i pareri di alcuni dei protagonisti. Ma io da parte mia devo dirti che è stato importante vincere questa partita, perché è fondamentale a inizio stagione cercare di limitare i danni, nel senso che non siamo ancora una squadra come la intendo io, abbiamo ancora parecchie indecisioni, c'è parecchio da lavorare. Passiamo ora al massimo campionato femminile caratterizzato nello scorso turno dalla vittoria dell'Oderzo nel derby con il Dossobuono. Era uno scontro diretto importante, hai detto bene, una vittoria convincente, peraltro in rimonta una vittoria di carattere, quella dell'Oderzo nel Match of the Week che era in diretta su Sport Italia, ma sottolineerei anche la vittoria di Bressanone che ha battuto Cassano Magnaco, anche quello era uno scontro diretto, siamo appena alla seconda giornata, però il Bressanone in casa ha vinto bene, lo ha fatto con autorità e lo ha fatto nel segno di Giada Babbo, che si è integrata subito benissimo, 14 gol nelle prime due partite. E poi c'è Salerno che per il momento ha percorso netto, due su due, e queste sono le tre squadre a punteggio pieno. Vediamo il servizio. Iomi Salerno, Mechanic System, Oderzo e Brixen su Tirol sono le tre squadre che hanno mantenuto netto il proprio percorso dopo le prime due giornate di Serie A1 femminile. Se saranno le formazioni candidate a vincere il titolo lo dirà il tempo e lo dirà il percorso di un campionato che nel frattempo ha lanciato. Segnali interessanti, soprattutto in due scontri diretti. In ordine temporale il primo è stato quello con cui Bressanone ha superato Cassano Magnaco, un 21-17 che è il sapore della Puglia perché Giada Babbo al debutto casalingo con la nuova maglia si prende la scena con sette reti. La prima in casa è da sogno anche per Giorgia Di Pietro al Palau Pitergium e in diretta TV su Sport Italia. Il terzino di Origini Terramane ne fa 10 al dosso buono consegnando a Oderzo due punti preziosi e una iniezione di fiducia non di poco conto in una stagione che da quelle parti del Veneto vivono con grandi ambizioni. Bene la Iomi Salerno, campionessa di Italia perfetta nel 24-17 a domicilio sul campo del Flavioni a Civitavecchia in una gara mai in discussione e nella quale risalta il nome del terzino azzurro dalla costa con nove reti all'attivo. Pareggio dalle tante emozioni poi il 31-31 su cui impattano Ariosto, Ferrara e Leonessa Brescia. Un punto per parte, il primo stagionale per le Emiliane ma anche per le Lombarde nell'edizione 2018-2019 della massima serie. Passa da Leno il primo successo dell'anno anche della Casa Grande Padana 28-25 in trasferta dopo aver concluso in perfetto equilibrio i primi 30 minuti di partita. La contesa gira al 41esimo dal 19-19 all'allungo Emiliano sul 23-20 dopo 46 minuti. Vantaggio questo che durerà fino alla conquista dei due punti. Abbiamo preso nove gol il primo tempo, otto gol il secondo tempo. Vuol dire che la difesa ha lavorato benissimo. I cambi erano nel secondo tempo ancora meglio che nel primo. Però devo dire che c'è una forza mentale che quest'anno abbiamo. E' quella che ci spinge poi ad avere il risultato. Ho detto già prima che il risultato a Casa Grande, la vittoria, era perfetta come partenza ma non era la prestazione, era un risultato buono. Adesso la partenza è andata veramente come uno se la sonda. Non c'è più Conversano, si è spezzato il predominio del Sud Italia, resta Salerno. Ora bisogna capire quale tra le squadre del Nord Italia, in particolare le Venete, Oderso e Odesso Buono, c'è Bressanone che ha presentato ai nastri di partenza una squadra molto competitiva, sarà protagonista di questo campionato, anche in questo caso incerto. Sì, è finito il dualismo però si sono aperte altre frontiere. Io ovviamente perché sono del territorio ho un affetto particolare per Oderso e Odesso Buono e mi auguro che portino a termine il loro percorso. Vedo molto lanciato Bressanone, credo che sarà sicuramente la novità prossima. La novità che poi è anche un ritorno alla tradizione, perché il Brixen è una delle squadre che ha vinto maggior numero di scudetti, sette se non sbaglio Matteo. Sì, sì, non sono veramente una novità. Diciamo che la novità è che sono riusciti a organizzarsi con una formazione molto molto competitiva. Sono ritornati, è ritornato il Bressanone così come nel massimo campionato maschile dà segnali importanti di ritorno ad alti livelli il Trieste. Ora ci fermiamo, pochi istanti di pausa, alcuni comunicati commerciali e poi apriremo un focus su quanto succederà nel mese di ottobre, a partire dal 20 ottobre qui a Padova. Lo scorso anno le Next Gen ATP Finals hanno introdotto una rivoluzione nel tennis con nuove emozionanti regole, un'atmosfera elettrizzante e otto storie di astri nascenti di interesse mondiale che proiettano il tennis oltre i propri confini. A novembre le Next Gen ATP Finals tornano con tante novità e nuovi protagonisti. Sarà uno spettacolo mai visto prima. Acquista oggi i tuoi biglietti su nextgenatpfinals.com Il futuro è adesso. Portiamo la testa a Marti, prima rete dalla sua partita, 7-6 in Italia a vantaggio. Ha l'incorso dei pali, è un cittino. Il gioco di gioco tutto da solo e lo fa meravigliosamente bene. Scalico per Camarella a tiro, Riccardo, ripetuta, rete, la golla, fantastico dell'Italia! E allora entriamo nel vivo. Siamo qui a Padova, ospiti dell'amministrazione comunale, splendido Palazzo Moroni. Gianni, è stato presentato a martedì questo evento perché Italia-Ungheria è probabilmente soltanto la punta, la ciliegina su una torta ben guarnita, ben preparata, qui a Padova. Una serie di eventi a partire dal 20 ottobre fino al 28 ottobre che metteranno al centro la palla in mano e poi chiaramente la partita degli azzurri. Sì, è stata un'occasione vorrei dire storica. L'amministrazione comunale, pubblicamente ringrazio ancora l'assessore Bonavina, ci ha messo a disposizione qualche cosa che noi non ci aspettavamo, oltre alla disponibilità all'impianto ma anche alla disponibilità della città. Ci ha aperto le porte perché domenica 28 noi saremo qui in Piazza dei Frutti dove ci sarà concomitante una manifestazione in cui si aspettano 20-30 mila persone e ci saremo anche noi, ci saranno i nostri ragazzi, ci sarà la nazionale, ci sarà dimostrazione del nostro sport. Approfittiamo anche con lo stand che celebrerà il cinquantenario della federazione, onere che mi sono preso e ho richiesto di poterlo cominciare qui da Padova vista l'occasione e vista l'importanza di tutti gli eventi che abbiamo creato. E abbiamo anche Fondazione Comunica che la settimana precedente ci ospita nel palinsesto del Digital Meet, abbiamo un incontro dove ci saranno i nostri rappresentanti della comunicazione, ci sarà il consigliere Gianluca Brasini che parlerà, visto il suo incarico anche nella Champions League, importante incarico legato al marketing e lì ci faremo conoscere alle associazioni di categoria, agli enti che abbiamo inglobato in tutto questo contenitore. Digital Meet ci offrirà inoltre anche un momento di formazione per le nostre società, ci stiamo dando da fare, è una cosa che ci dà tanta adrenalina, la stiamo affrontando con molto impegno. Bisogna registrare sotto questo aspetto la grande disponibilità dimostrata dalla città di Padova, dal Comune di Padova in particolare. Martedì scorso, come dicevamo, c'è stata, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell'evento, vediamo il servizio. La suggestiva cornice di Sala Bresciani Alvarez a Palazzo Moroni, sede del Comune di Padova, ha ospitato martedì scorso la conferenza stampa di presentazione della gara Italia-Ungheria, in programma il prossimo 27 ottobre alla QN Arena è valevole per le qualificazioni a Euro 2020, assieme anche alla presentazione del progetto Gioca e Vivi la Città. Il format ideato per la sfida contro i Maggiari, debutto casalingo degli azzurri, porterà la palla a mano al centro di una serie di iniziative volte alla valorizzazione del territorio e ovviamente della pratica sportiva. Il tutto partendo dal 20 ottobre con il meeting come il digitale può aiutare alla crescita di uno sport giovane, il caso palla a mano organizzato nell'ambito del Digital Meet. Fulcro del progetto, ovviamente, la sfida fra Italia ed Ungheria del 27 ottobre, inizio alle 18.45, diretta TV su Sport Italia, il 28 ottobre. Il giorno dopo, in conclusione, la palla a mano sarà ancora protagonista, questa volta in una location inedita e di assoluto prestigio, Piazza dei Frutti, teatro del Festival di Sport, Benessere e Sicurezza, nell'ambito del quale verrà allestito un campo all'aperto nel centro storico della città Veneta, assieme ad uno stand promozionale della federazione. Entusiasta il presidente federale Pasquale Loria, che alla stampa ha annunciato come, nell'aprire le celebrazioni per il cinquantesimo anno di vita della FIGIH, la nazionale scenderà in campo a Padova eccezionalmente, con una divisa rossa in onore del club maschile più titolato d'Italia, la Palamano Trieste, con 17 scudetti. Nei prossimi giorni, intanto, è prevista l'apertura della prevendita per i biglietti del match contro l'Ungheria, con l'acquisto che darà accesso fino a Natale ad alcuni dei più importanti musei civici della città di Padova. Tutti i dettagli saranno consultabili sul sito www.midaticket.it. Programma ricco, dunque, quello che vedrà appunto la nazionale italiana approdare a Padova, un programma che si aprirà il 20 ottobre con il meeting organizzato in collaborazione con il Digital Meet dedicato alle potenzialità del digitale nell'ambito di uno sport giovane in crescita, ovvero la pallamano, pallamano che dunque sarà centrale. Poi il 21 ottobre è il momento di formazione digitale per le società della pallamano del territorio, il 27 è la nazionale, il 28 invece in Piazza dei Frutti c'è il festival sport, benessere e sicurezza. Abbiamo sentito, abbiamo ascoltato l'assessore allo sport del comune di Padova, Diego Bonavina, per farci raccontare quelle che sono le caratteristiche di questo progetto. Ascoltiamo. È un progetto nuovo, è un progetto veramente ambizioso, ma anche innovativo, perché diciamo che la partita di per sé è importantissima, perché in qualificazione ai campionati europei Italia-Ungheria, è una partita che in sé poteva già richiamare tantissima gente. Però grazie alla collaborazione con la federazione Handball, grazie a dei partner importantissimi qui a Padova, grazie al comune di Padova, siamo riusciti a mettere in piedi qualcosa di diverso, che possa coniugare lo sport non solo con la cultura, perché chi verrà a vedere alla Chioenne Arena il 27 ottobre Italia-Ungheria avrà la possibilità di avere fino a Natale l'ingresso gratuito ai musei civici di Padova, quindi già un binomio importantissimo, quello fra lo sport e la cultura. Ma siamo voluti andare oltre, noi ci proviamo partendo proprio dal Handball, un progetto unico probabilmente in Italia, ci siamo collegati anche al mondo dell'innovazione, del digitale, quindi sarà una settimana piena, piena di eventi, cominceremo il 20 con un convegno proprio sul digitale e l'innovazione organizzato da Digital Meet, che è la più importante società di innovazione in Italia, in cui si daranno delle informazioni, secondo me, importantissime per chi si vuole migliorare in questo sport, e credo che sia anche una base di partenza proprio per cercare di aumentare tutte le persone che vogliono stare vicini al mondo del Handball. Ma poi andremo avanti, perché il giorno successivo ci sarà un momento di formazione, grazie al CONI, grazie sempre a Digital Meet, tutti gli allenatori, i tecnici che vorranno partecipare, ci sarà questo incontro. E poi arriveremo d'un fiato alla partita del 27, ma non sarà finita lì, perché chiaramente è una partita straordinaria, un evento importantissimo per Padova, ma dopo il 28 ci trasferiremo qui, in Piazza della Frutta, dove allestiremo dei campi, dove ci saranno i campioni della nazionale, dove tutte le famiglie potranno partecipare. Anche qui abbiamo unito questo evento che c'è a Padova del benessere e della salute, e credo che il benessere e la salute sia proprio sport. Il fatto di portare in piazza tante persone, di farle vivere delle esperienze uniche, secondo me, è la ciliegina sulla torta di un evento, che ripeto, è di un progetto, che è sicuramente ambizioso, ma è innovativo. Gianni Censi, l'elemento innovativo di questa serie di progetti è appunto il fatto che la palla a mano esca dal 40x20, vada a toccare altri mondi. In questo Padova rappresenta l'elemento di innovazione, era già stato così, con un evento di prim'ordine contro la Serbia, adesso la federazione ha voluto fare ancora di più. Ma sì, ci siamo chiesti tante volte cosa fare per riuscire a rompere gli schemi. Io nel mio posso dire che ho trovato nel territorio una grande collaborazione, primo fra tutti, e lo ringrazio ancora pubblicamente, Mirko Palmieri, che ha ovviamente dato una svolta a tutto quello che poteva essere la schematizzazione di un evento come questo. L'apertura al mondo digitale ci ha fatto incontrare con Gianni Potti e la sua fondazione comunica, e anche lì è stata un'evoluzione e implementazione di tutte le occasioni che abbiamo messo in moto. Proprio con Gianni Potti abbiamo parlato di questo appuntamento, quello del 20, nell'ambito del Digital Meet. Ascoltiamo. Detto bene, sport giovane, sport in spinta, e quindi ci dà ancora più stimoli nei 150 eventi dei quattro giorni di Digital Meet, avere il piacere di andare a capire di più come investire nel digitale e nello sport della pallamano, e poi facciamo anche un'azione di inclusione sociale, di alfabetizzazione, portando un paio di pillole gratuite ai dirigenti sportivi della pallamano del nord-est, regalando un'occasione per entrare meglio nel web, capire un po' di più sulla sicurezza del web, sui social, e come promuovere la propria società sportiva. Non c'è dubbio che il digitale abbia un valore ormai enorme nella società moderna e all'interno del mondo dello sport, soprattutto per le piccole realtà, è un valore aggiunto non da poco per chi soprattutto vuole farsi conoscere, vuole ampliare il proprio bacino d'utenza, anche in piccole realtà, anche a livello locale. Assolutamente sì, però ci ha incuriosito questo modello, una sorta di televisione fai da te, quindi un salto in avanti anche nella visione televisiva. Quindi al di là delle varie sky, da zone e via di seguito, la pallamano propone anche un modello che chi vorrà venire ad ascoltare il 20 ottobre a Padova sicuramente lo renderà molto interessante. Ritorniamo alla pallamano giocata, diciamo dell'impegno che attende la nazionale allenata Riccardo Trillini, qui a Padova ad ottobre contro l'Ungheria, l'altra metà del cielo, le azzurre, si sono radunate nella giornata di domenica a Salerno, martedì partenza per la Macedonia, questa sera primo test amichevole, è una squadra orfana di Anicanni Dervise, ma non per questo meno ambiziosa. Vediamo il servizio. Uno sguardo rivolto al presente, ai prossimi impegni ufficiali previsti dal calendario internazionale, è un pensiero al futuro, neanche tanto lontano, ma pur sempre futuro. Con questo duppice obiettivo, l'Italia guidata da Neven Ruppets è sbarcata nel pomeriggio di martedì in Macedonia, a Scopie, dove tra oggi e domani le azzurre testeranno il loro livello di condizione in vista degli impegni ufficiali che l'attendono dal 23 al 25 novembre, in Grecia, dove si disputeranno le gare di qualificazione ai mondiali del 2019 in Giappone, un mini torneo a quattro con l'Italia, le padrone di casa della Grecia, il Portogallo e la Bielorussia. Il doppio test in Macedonia assume particolare rilevanza perché Ruppets proverà l'Italia da mandare in campo nelle partite ufficiali, un'Italia che sarà orfana della sua stella, Annika Niederviser, ma con una ritrovata rotondo, assente ai giochi del Mediterraneo. Oltre all'asso alto adesino, mancano all'appello, ma solo in questa mini tournée, anche Prüster e Taki e Trombetta, l'unica delle tre, che darà sicuramente forfè in terra ellenica. In casa azzurra si lavora su un doppio binario perché se è vero, come è vero, che c'è da preparare le gare di qualificazione ai mondiali, il coach croato, altrettanto, guarda al dopo domani. Si spiegano in questo modo le convocazioni nel raduno svoltosi a Salerno prima della partenza per la Macedonia delle giovanissime Bertolino, Giogepp, Manolovic e Ucchino, risorse importanti da allevare con cura per preparare un futuro all'altezza. L'Italia di oggi invece è ancora saldamente tra le mani delle veterane Landry, Fantone, Gioge, Napoletano, Babbo, Del Balzo, Dalla Costa, giocatrici che possono e devono dare ancora tanto alla causa azzurra, tanto più però responsabilizzate dal fatto di dover accogliere e guidare le new entry. Azzurri impegnati nelle qualificazioni alla fase finale degli europei, azzurri che invece dovranno affrontare un girone in Grecia per la qualificazione ai mondiali. Ecco, l'attività della federazione sotto questo aspetto al di là degli eventi è instancabile. Tanti gli appuntamenti, tante le scadenze, speriamo che possono arrivare anche risultati, anche dalle azzurri. Ma sì, ci teniamo sempre ovviamente, ma la cosa che mi preme, sottolineare è proprio questa, è stata data una svolta, cioè il piano tecnico delle nostre squadre azzurre è stato portato ai livelli degli altri paesi. Ovvio si può ancora fare meglio, però per ora la considerazione che ha dato questo nuovo corso alle squadre azzurre credo nessuno la possa negare, è sicuramente di primo piano. Sono al centro di tutto, gli azzurri e le azzurre, no? Ma sì, ma anche a partire dalle attività che adesso nelle regioni, nei territori si stanno mettendo in atto di ricerca dei nuovi talenti e fino alle nazionali maggiori c'è la volontà e l'interesse da parte di tutto il movimento di cercare e di valorizzare i nostri atleti. Grazie, grazie Gianni Censi, grazie a Matteo Aldamonte. Ricordiamo rapidamente gli appuntamenti di questo fine settimana. Fine settimana in cui scenderà in campo solamente la Serie A1 maschile perché come avete ricordato la nazionale femminile sarà impegnata in amichevole in Macedonia, dunque diretta handball vede al centro la quarta giornata del campionato di A1 maschile, big match, match of the week, domenica 17.15 dal palaestra di Siena, la gara tra Ego Handball Siena e Pressano. Grazie, grazie Matteo, tanto da fare e chiaramente ve lo racconteremo sempre con puntualità nel corso dei nostri appuntamenti con Handball Mania. Arrivederci, appuntamento a giovedì prossimo. Dove l'ammessa? All'incrocio dei pali! Un gol pazzesco! Wir sanno! Ego! Siencia creteazione! Freno! Siencia creteazione! Grazie.